se questo qui ok siamo 5 ci sarebbe un posto ma non mi hanno scritto nessuno probabilmente sono la playstation che mi seguo più gente da playstation che da cross play che sarebbe anche una cosa carina ericamente non è nulla di così complicato non è come in bokeh scusa non ce l'avevo su te just drum mi sembra di si vedi cosa bene che il mio ragazzo mi messaggio dicendo fino a pochi minuti fa ero ubriaco io perfetto che cazzo avrà combinato che cazzo no ce l'ho ce l'ho il follow su di te infatti se mi dice smetti di seguire quindi teoricamente ce l'ho eccomi quasi ci sono grazie il follow culo yema ma da mo che to follow io parlo di te ah ok si scusa ma scusa giusto 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 ma tu di dove sei a un pa tipo se siciliano se calabrese o napoletano fornuto no cornuto culasso follo di palermo infatti la cornuto è di palermo non è più che calabrese un nodo noi diciamo direttamente come iubes ha fatto notare i pezzi in merda come il tempo bella palermo raga veramente bella una delle poche città del sud che si salva che vale la pena visitare napoli potete anche saltarla però no non disciami napoletani posso farlo ricordo che poi una bellissima città ragazzi che posso farlo napoli se i palermo minchia di palermo city ma scusate ma poi andata a catania all'etna fra etna comic etna fra mi piace si chiama etna comic no ci andate per casa della partita però un mesetto e fra qualche giorno in realtà magari ci potevamo incontrare lì ho capito però facciamo quanto che questo giorno esiste perché fanno sto etna come se magari ci incontriamo lì a 7 roma ok beh non è troppo lontano vive in culo anche un mio caro lì con iubes quando è l'etna comic che cazzo sono i primi giorni forse non era l'otto ma avete trotto ma al 6 all 8 giugno quindi se volete ci possiamo vedere perché io ho mezza intenzione andarci cielo però se ci incontriamo lì magari un timore in più per andarci ok la partita che dura 40 anni davvero non vuole partire mandami amicizia su twitch e giusto così magari il numero di telefono insomma vediamoci organizzarci in qualche maniera c'è anche telegram c'è anche facebook se non vuoi dare il numero io sono rimasto a whatsapp vabbè basta cazzo di vecchio io ho messo pure stream ma ora mandare lì insomma così per passarci la giornata per vedere le cosplayer perché siamo disperati e quindi tipo per vedere un appellativa questa partita cristo alleluia o in chiaramente tre minuti che vuoi che usano ragazzo delle campagne cosa picco non però se c'è la tipo io non posso prendere il leader no ti prego non mi fa fare partite con zara c'è la cosa la il gile giallo con noi c'è l'amica in italiano italiano tra virgolette devo aggiornare la categoria no perché iubes me la presa vuoi giocare a healer no prendo diva visto che lui si lamenta sempre che prendo nessuno prende tank io prendo quindi tu che solo un guaritore brigitto ciao passiamo finito no pare a guidare a palermo in realtà pure a roma un casino con la guida quando ci sono andato io ricordo che era c'è non c'erano regole autostradali era la legge del più forte a roma negli incroci proprio chi ce l'ha più duro passa la pallena poi io i tasti di diva penso che la uso quasi mai non me li ricordo mai chi è critico iubes torna qui che sei da solo al solito se ne stai spazzendo un cazzo del genere aiuto healer grazie healer se sta sbattendo i coglioni e iubes genji ok fatto genji purosago oh è morta merci c'è il cecchino raga sopra curato iubes questi non si muovono da qua purosago healer healer oh è il man healer e iubes io faccio delle armature iubes il man healer? cazzo sì esatto eh infatti non c'è un healer in questo momento sennò l'avrei fatto no mi sono girato e ti ho dato una cura però pegasus lo so ok oggi ho detto come funziona l'armor è potente l'armor lo so io fatto cazzo tutto non so teoria dietro sì vero sì eh eh healer se uscisse da qua farei l'ultima cazzo c'è un genji dietro serena è curata ok ho ucciso la lama della tigra di sto cazzo ma se ero fuori dal drago no soldato mi ha ucciso mio amico mi ha insegnato per fare una cosa soldato mi ha ucciso cioè sono morto mentre usavo l'ultimo sono un coglione di merda come motorino roso un criminale sono delle buche spettacolari delle gallerie particolari sono delle buche che entri e riesci all'altra parte non dove a napoli dove a roma i tunnel spazio temporali sì le buche di roma sono di tunnel spazio temporali io a roma conosco una geletteria più buona del mondo non mi ricordo come si chiama perché ci sono stato più best a destra che c'è angie ok mi ha fatto no se ne è andato non ci serve il tuo intervento chirurgico ci sono soldato 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 dietro a destra oh mio dio che uccisione ho fatto l'ho uccisi tutti healer lo sei sei full sei full sei full la morte non può fermare gli eroi oh iubes che mi cura minchia sì è un onore effettivamente non so se sarà la mia però tracer comunque sta cosa di moira deve passare grazie per il fold cioccia iubes iubes praticamente li sto carriando io su twitch te ne sei accorto mhm se io ho fatto una ulti che non me l'aspettavo neanche io mi clicco sempre r quando si tratta di ricaricare iubes si è messo di merda torna qua ma è la kill ok perfetto 30 secondi rimanendo ed è che è a mitico a stronzi tu che fai il romano proprio non te se può sentire no cazzo mi sono incastrato là ma abbiamo vinto eh non è detto posso contestare c'è una moira dietro fuck aiuto aiuto vai vai c'è vedi c'è moira in quella casetta del cazzo non ci vedo faccio l'ultimo non ci vedo ho preso il soldato ragazzi ok è morto il soldato ana ok ho fatto tipo un uccisione 5 di fila con la buca con diva non so se viene a me però comunque è stata la vera cosa domani fai la sicura che non ho capito lo sapevo chi è marco raga perché non sto capendo guardate 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 erano tutti lì best diva e u ma me fa anche cagare però ma tu che mi hai aiutato per una volta mi hai aiutato ti voto bravo devi impegnarti da sola lo faccio per te ti sei votato da solo? si io si mi voto sempre da solo sono un narcisista del cazzo bravo ah ok giusto non sapevo chi chi chiamassi marco comunque anch'io al streamer rocket ma faccio cagare il cazzo ragazzi proprio faccio venire e schifo quel gioco non ho idea di che cazzo sto facendo tipo ho messo il pallone la prospettiva e tutta un'altra cosa mi si rompe la macchina di tutto mi si rompe la macchina di tutto mi si che scusate mi è venuta l'ansia per via del perchè? che serve raga? è soltanto è rinato fortuna è inutile ho una pallina ecco ma in genere qui c'è ancora un crasserva perchè farà ma farà non lo sa facciamo una botta di anabastian hai una bastion eh vai vai te la senti? si si no ma ce l'ha già preso ma non sono io bastion no menchie mi sa che manca manca un tank e coio tank laio migli azzari tipo io ho di per jankrat ho due elite una viola ciao buiolema buon lavoro allora mai smettere di combattere per quello in cui si crete anche io si ma noi ci siamo sempre io in realtà faccio di solito pomeriggio gta la sera il rainbow poi arriva sto coglione qui questo qui questa specie di montagna e mi rompe il cazzo per overwatch ma io non ci vorrei neanche giocare io non ti amo nemmeno per il cazzo per oggi semplicemente che tutti i miei amici su overwatch sono offline e vengo a trovare gli sfigati mi scusi io cosa c'entro sei finita nel mezzo perché così che ci sei finita te la sei scelta cazzo notte notte dove è bastion attenzione alle camere si simmetra si simmetra dietro li spaccate dio porco lo spaccate lo spaccate vai per il pubblico fire I need to fire eeeh c'è stato questo qui poor god No deal Il metro è andata Posto il carico Mi ho besti le cure? Come sono? Full La forrecca nemica La forrecca nemica Posto il carico Ya cecchino Questa è la realtà definitiva Lo sai che ho il tasto grazie sulla K E lo premo col pollice Un secondo Cura, ho bisogno di cura raga No, c'è Bob Non ho fatto in te pazienza Tasto perché... Non ho vita Aiuto, non ho vita Non ho vita Teniamolo in movimento Then Then one C'è uno dietro 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 Ascia Questa cazzo di camera mi hanno rotto i coglioni L'obiettivo le mette ragazzi Dato il mio occhiato al fondo Oh cazzo dietro No no, l'ho fu... So katsui Posserei anche che lo sarebbe vinto Quindi sto gioco è un bordello Già Veramente un bordello Stai tutto il tempo lì Quindi non posso neanche mettermi a leggere la chat Perché è un continuo... Molto frenetico Non lo conoscevi Se lui non lo conosce un gioco lì è normale È un bambino E' del 93 teoricamente Quindi non è proprio... No, io vedo il bambino prima di 15 anni intendevo E' lui, non è lui, è un altro Ah ok, per quello dice Ok Poi la media di questo gioco è basso Si si, molto basso Poi non so se qualcun altro l'ha detto Vedete tanti Si, ma basti è un minoso Si, ma basti è un minoso Più famoso... Della bamba tra poco C'è uno su Però dai Torb su C'è Torb su, cazzo Puttana la madonna Devo farlo io con Ash Conan Questa è la realtà Ehm Io non lo gioco seriamente Lo gioco così Perchè Comunque Non ho il team Diciamo ecco Per giocarlo seriamente Questo è un gioco Che si basa sul counterpick Più che altro Thank you Sta con barriera su di te Ok Minchia ma shottata Questa è la realtà Definitiva Ah c'era Lanzo dentro Ah ragazzi dietro di me chi c'è? Tutti Ok Oh cazzo Ma guarda la gente che deve prendere Deve prendere gli eroi Perchè devono copiarci Ma guarda la gente Vuol dire vuol dire Vuol dire vuol dire Hanno preso già un crack Prima non c'era Mi capi no? Su l'obiettivo c'erano le trappole Eh su Eh su Eh su Eh su Eh su Scusa Boh il padoammond Così cario Li ho pullati Poi che cambio Però sono nel mio disco line Lo può anche tenere Non ce l'hai ma la usa il momento giusto Ah guarda com'è morto bene Ah C'è Torb Non con la loro simmetra è una caga cazzo C'è Torb là C'è Torb là in alto Io ho visto Vai stiamo sull'obiettivo Vieni dietro Vieni dietro Aiuto Ho fatto la camera Queste camere mi stanno facendo impazzire Ma letteralmente C'è gente dietro Come ve lo devo dire Secondo di te Abba va Avete capito un cazzo Non io posso capire che cazzo Non io posso capire che cazzo Ti flankano Cambio i pg Ma sono giovanna Come sto con voi Cambia Anna brutto cazzo Porco dio Funziona cosi sto gioco Si ma infatti Non mi metto col culo Cambia Anna C'è un motivo se si chiama counterpick Giochi Lucio Lucio ma va Tampoco mi addormento sulla tastiera Ma spero non colpa mia Quanti sono la pallina Quanti sono? Ok 3 almeno Quanti sono che ho la mia super da qua 2-3 ma non serve Non lo so nel risparmio Appunto Stavo dicendo la mia pallina Si vabbè Si vabbè Se fa zanagertore Genji dietro E' morto Yubes Potevo far piacere No Mi ha cambiato Nè cosa Poi L'abbiamo consegnato La Pusola lo usare su DMA Non mi shot Oh questa simmetra ha un rompimento di pothole Ok Ok Grazie ancora madonna cristo iddio io beh se sei da solo lì e beh c'è battista no ti ho botato una barriera però sta attento in quanto sono lì infatti sono là in fondo più best barriera su di te vai che lo stiamo spostando notte notte e ho pulato ragazzi eh no no è finito nello sburo eh lo so ho visto st'hanno sburato lo consegno io si 9 nice ho subito un abuso comunque la loro metra non era male mi hanno rotti i coglioni cioè ho spaccato 2 milioni di cani migliore della partita mi ha autovuoto vabbè ho votato lennan eh ti ha autovuoti sempre zack eccellente no ho votato lennan poi siamo 6 scusa ahahahahahahah cazzo ho votato len tutto ben come voce io vanna b avevo capito un cazzo ma con chi ce l'hai? con un tizio su twitch si chiama di ovanna bier buonanotte tutto bene? come va? te ne vai se lei ne? si che ormai devo svegarmi tipo le 10 o le 9 ah non l'ho ah beh buonanotte tu sicuramente rimango un po il live vai 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 vabbè dai vai a dormire se siete svegati le 10 sono le 4 vabbè ciao ciao che prendo voglio giocare di ps non voglio giocare da zegnatta posso prendere zegnatta e non mi odiate tutto ma per dire buono no no attaccanti in arrivo tra 30 secondi mi best traduce il tizio che ha scritto in live ce l'ho tradotto io eeeh sanchez dire sanchez dire sanchez che cazzo sta dicendo eeeh 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 io senza cosa sapessi pure lo spagnolo quali altre qualità hai che non conosco beh so belare altra qualità che sa fare i versi del cazzo i versi della fattoria li conosce tutti eeeh fanno davvero il dio porco ah me le ha sorpiti oh cazzo ti ho messo il cazzo di cymbolo bene fate il ok no cazzo me l'ha sparato in faccia raga cazzo c'eva guanzo dietro e nessuno me lo chiama me l'ha sparato proprio in faccia ho preso il tuo cazzo di drago in bocca praticamente ma maledizione quando emerge un imprevisto dobbiamo mettere in discussione ragione zeny alta la protezione è un fragile scudo eeeh eeeh lo so me lo dicono sempre vai vai mi so buttato in mezzo con la cosa vai 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 mi so buttato in mezzo con la cosa vai vai eeeh la presunzione è un fragile scudo la presunzione è un fragile scudo la presunzione è un fragile scudo eeeh 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 cazzo una era diamante una era diamante ne rendi conto però non è in senso è buona ma gioca bene ma ma guarda quasi quasi se non trovo un team su rainbow me ne vengo su overwatch no non gioca male però boh vabbè main mercy magari se avrà trovato un team di gente per bene al fine quando fai main mercy eeeh è la figa trovi trovi come fare come fare diamante c'è questa che con noi è diamante nooo una con cui gioca che figa parchi sta cosa iubes che è così così sessuale mhm fuck aveva fatto diamante in passato poi abbandonavano anche per un po' la ripresione nooo porco il cristo ma che la sto spingendo vai ok quando emerge un imprevisto dobbiamo mettere in discussione le nostre sei main scimmio zoi si ma la sono sentita troppa raga ma la sono sentita troppa ma la sono sentita troppa ma la scimmia mi piace non dunque cioè io non gioco però il gioco è bello niente da dire ho la blizzard di safari capisco perchè iubes gioca il gioco morto perchè effettivamente la blizzard di perchè è bello anche quello forse si 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 mi ha detto che no qua mi sono buttato mi chiamate bob aggiusta tutto orisa mi arrasso orisa si si ok moira quasi 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 mi fa uno smurf perchè? così si te lo devi comprare cuore 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 devi comprarlo che devo si lo compro no fanculo lo scudo no sono bloccato qua nel last map sono un no no pure ho bisogno di cure io best le cure eh t'ho curato ma gli sei andato in bocca beh se sono davanti alla macchina no c'era a bastion non era colpa tua no che troia oppa amma ricordo per mi lauro La barriera è fatta, non c'è una cura di merda Eh, non c'è l'healer semplicemente, ci sono solo io So, so Vai Merzi, sai giocare Merzi? Eh, sì, ma poi non c'è danno No, vaffanculo, te gioca Merzi Ma che cazzo dici? Sì C'è il danno ma non vi tengo a tutti Vedi che se c'è un solo healer è solo Merzi e lo può fare, punto e basta Sì, non ti ricordi i coreani come giocavano? Vabbè, i coreani, porco Dio, quelli sono geneticamente un'idea Vabbè, cazzo, i coreani, basta con questa genetica Guardate, se i resti in piedi faccio un DPS esagerato Anche zack a me Sì, a olio Più c'è me qui Pazzo, non vedo me cosa Mi fanno non esserci danno Che cazzo dici, iubes, ma porco Dio mi fai winnare Sì, ma pigliatelo un healer, porco Dio Ma non abbiamo il tank Stiamo giocando di tank noi Sta land non era main Sì, vabbè, ho capito Potrà giocare ogni tanto un DPS Ma iubes, tu sei qui su Discord Cioè, non ce l'abbiamo potete, semplicemente un'osservazione Curo però Attaccate il mio cazzo di culo C'è Winston che rompe il sacco Sì, ma se Winston mi viene mi charge e nessuno mi difende Unico healer Lo sto attaccando da tipo mezz'ora Bastion raga, bastion 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 La scimmia dietro Io ero secondi in danni Quindi danni c'erano Che bisognava un po' di sustain Unito io Unito io Submattoli Mi puoi restare? Se non piscino le macchine Unito io Sottomettiti al mio volere! No, ci vorrà altro healer, è inutile Arrasso Moira, arrasso Moira Cure, ho bisogno di cure 30 secondi, dai Ma falla arretrare un po' C'ho qualcuno, c'ho Wee, la scimmia di merda Eh sì sì sì, ci ho stato fatto Eeeh vabbè Vai resta, mi stai addosso Ho apposto vinto, nice Uuuuh Che amma ho perso l'uso del braccio di Promit Che sto gioco è caldo Il cannabolo ho reskillato Ho fatto una quinto, prova col coso Col Cresceto Ok E noi che infamiamo Mojube, sto qua davanti a cura fornì Mmm, ma quella è solo Moira Mi mancano dieci follower e accen- Would be a dare a cura fornì E noi che ammetti Ma che non ci sono No, non ci sono No, non ci sono No, non ci sono No, non ci sono Nessun tank, trago, se già bisogna sacrificare i te al solito Ho il tank, quindi proprio di sacrificio No, tu fai, io non so che prendere, cioè Ma lascio, vabbè, no, adesso sta Prendo risa, ma a me mi fa cagare Ah, proprio il road dog O risa è il forte Non lo so, non lo so usare molto bene Che risa? O road dog No, road dog, nel senso, non so se sei destra o sinistra ogni tanto Come funziona? Un destro è lontano Un destro è lontano Mi, mid range più che lontano Che da sinistra ti posso, ah ok Non la riesci, mi dà il suo account, si col cazzo Si Quindi l'hai trovato 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 Pezzo di merda Ah, io pezzo mi hai ridato con due followers Mh mh Ebrey Ebrey mi dà il suo account Oh shit Ebrey odia Overwatch A me francamente, per dire la verità, mi sta prendendo Si, l'ho notato Io vorrei tornare sul rainbow, francamente E ci diverto Ci winno meno, si vince Imparo l'inglese Cazzo d'oglio Ma l'inglese lo sai? Vabbè, ma lo pratico di più nel parlare, no? Si, quello è reggia Rain Cazzo m'anchecciato No no, esatto Tranquillo, ce l'ho davanti e non potevo fare un cazzo Cixio, c'è Cixio C'è Cixio C'è Cixio C'è Cixio C'è Cixio C'è Cixio E' tremendo Eh, sta mettendo No Voglio, un sacco, non lo so usare, lo sto prendendo qui No Ah, non è morto ancora Cazzo è down Pena ho messo la torre, te l'abbiamo arrastato No Spostatelo voi il cosmo C'è me qui, eh? Viva via che ha altato, ha altato luce, via No Cazzo è Cixio Oh, c'è Cixio La torretta, raga L'ho fatta, l'ho fatta Aspetta che non ho letto Non ho letto usando le mie facoltà cognitive in questo momento Quindi secondo che sto prendendo qua Madonna futtana Non qua ci resto Se sto scappato non so come veramente Adesso ci resto sicuro Eh lo so sono solo è quello il problema Perché comunque Iubes non ci vuole giocare Antonio non vuole tornarci Antonio serve Sakon Quindi sono da solo Non posso ritrovarmi un team Non lo so Tra me e Sakon c'è una certa sinergia Moira dietro Cazzo è questo dps Che moira dietro Non so Forse non c'è dps RIP si Vabbè comunque ci giocherò a rainbow Anche da solo C'è i tuoi streamers stanno già in crisi I tuoi followers stanno già in crisi Perché ti sei fermato sul rainbow Sì C'è la scimmia qua E ce ne sono tre lì Tre ore che lo dico C'è anche mei Corco Gesù Oh king of knobs Si è già giocato a lui C'è bastion sopra il carro Dai regruppiamo i suoi Dai regruppiamo i suoi Vabbè Non so Vediamo di rimetterti in pietra Cazzo ma ho visto sulla troia Sono morto Scusa se ho regruppo andato Scusa se ho regruppo andato Scusa se ho regruppo andato Scusa se andai tutti avanti Forse è necessario prendere altre misure Un genji qualcosa per un Basta Lanza aria Eh lo so Purtroppo è la mia vita che Dobbiamo andare da solo Su R6 E lui non vuole E' cattivo Nonostante tutti i rompimenti Di coglioni che mi crea Io? Sto parlando di te certo Ma un culo dio merda Sto pensando di fare un salto a me Eh infatti l'ha fatto su di me No ma sto team non funziona Ah se è merci che cura basti Ora prendo fara Non funziona sto team Ci vuole Zarya Ma ormai forse è un po' tardi per cambiare Zen Zen non iler che la conta Vabbè non vado a zero Con Zen contari Contari Cosa Qua non ci conta Era proprio un cazzo Adesso ora come ora Che se gli avevo fatto da dietro Ma dai la scimmiera su Sono mai addosso Due palle oh Merzi Devo andare sotto solo Questa si è giocata proprio una schif Vabbè aggiungiamo Cixio Che ci carry è pure ubriaco Mh? Azione migliore della sattura Che ubriaco scusa? Cixio E che cazzo è? A uno è già No No Unosco Italiano No Portoghese Insomma il tuo team è europeo Insomma è filo europeista No è anche asiatico Perché sono del cazzo Questa è sulla cazzo L'ha ancora Un po' Un po' no però però non mi fate giocare il tank a me fate un monotank ho messo bene il tipo quale tipo? no Cixio ma in che senso è messo bene? del portogallo non credo ci sia messo molto bene hanno un'economia peggiora della nostra veramente si sono ripresi meglio di noi si vabbè però... vabbè perché siamo degli italiani di merda erano finiti come la Grecia no gli hanno semplicemente fatto fare il rapporto deficit PIL al 10% perché erano nell'Italia e si sono ripresi grazie al cazzo così li fai gli investimenti cioè ovvio però noi siamo l'Italia e non ce lo fanno fare Europa è nice è ubriaco per quello non per il suo deficit rapporto PIL al 10% che spettava e questo si ubriaca e poi viene già sopra per watch praticamente così che funziona che palle sta mappa parigi di merda ma dov'è Notre Dame? è bruciata pure qua è buono cosa sto dissing ai pariggini dai dai è francese fa cagare sta mappa mi sta arrasando devo cambiare mi dà cura chi è il leader qui? iubes c'è il soldi era a sinistra iubes non ha ancora ricevuto una cura si ma ce fa soldato ci ha fatto il giro ci ha avancurato cefara io non riesco a furarvi buonanotte buonanotte notte chi va? cefara prendo io soldato dai guarda se devo andare indietro tutta la mappa per prendere un medico ma no eh ma c'è solo iubes ma ci sono solo io io non so come voi pretendete le cure no no ma infatti io non ho detto un cazzo io le pretendo non ti posso curare anche se c'ho soldato e moira addos si raga io c'ho fara che mi sta scassando le palle e pure fara che fa dps lo provo attaccato io occidenta a cristo morto sui iodi e no 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 se allora c'è stata una falla nel mio approccio no ciao questi sono di un'altra categoria ma fa fanno capire la m*****a no eeeh si Ah, quelli di prima, non so, ma ci hanno asfaltato Sono basati lì sopra e ci hanno proprio buttato a terra Con un rullo compresso Ci abbiamo Torb e Valkyrie, porco Dio Due cose uguali Questa è palesemente onda energetica di Go Dai, ma mod Tutti sti raid che mi fai Che lo fai? Ti piace campare sulle mie spalle? Pai Aspettavo a mi aprire la cassa Sono spray Prai Minchia, Shroudo gioca a Counter Strike Eh, veramente? Minchia, mamma mia, non gioca a Counter Strike In che immagino quanti cazzo di spettatori ci avrà Allora, in tutto il gioco Non so, Counter Strike Global Offensive è l'ultimo Sì Comunque, sembra che è una grafica leggera alla fine Non è che tutto sto Sì, è leggerissimo, Counter Strike Certo, è un competitivo, cazzino di foto Devono fare FPS, non grafica Sì, ebbè, ma boh Inizierà adesso su Counter Strike Non assente Sì, ma boh È di una difficoltà sto gioco Sì, deve avere una mira di Cristo Ma come se Rainbow è la fine Deve avere mira di entrambi i giochi Solo che su Counter Strike Non devi impararti magari I muri di subib Qualche cazzata, qualche spot Boh Forse ha più easy pezzi Sotto questo punto di vista Però boh C'è gente allucinante che ci giova su Counter Strike Sono una mira di Dio Ehm, io beh, sa come cazzo ti chiami che mi sto prendendo il cancro Eh, vuoi si stacca, mi sono rotta le pade Non ce l'ho cotta i saconi Pensare, dici? Io sono contento quando giochiamo Ma sì Lo sai Beh Voglio addermi Shroud su Counter Strike Rimbocchiamoci le maniche e via Dai, l'ultima è stacca Tanto Qua la gente è meccalata quindi Tanto vale staccare Dopo questa, magari C'è l'ultima Tanto qua se ne sbattono i coglioni tutti i dealer Di cosa, figlio di PS pure io Sì, comunque Overwatch è un altro gioco O il team non ci giochi Perché no ti fanno venire il cancro La persona Ci vogliono 6 persone però Beh, i saconi li ho trovati Quante sono? Quanti ne hai io, i saconi? Oh, parecchi Stimmo full però 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 nulla nel senso C'ho un po' di gente Per fare team fun Qualcuno un po' meglio Qualcuno un po' peggio Ehi Sbruffone Fagli vedere cosa stai facendo Oh Mannaggia, addio Si vede che è tardi Ma anche mi vede il dolore a tutto l'arto ogni volta che ho sto gioco di merda Noi non lo so Sto mostro non è buono per giocare Cioè è troppo grosso qua Qua serve qualcosa di Quasi quasi me lo cambio i saconi No, non gioco Overwatch Che me ne sbatte la mica Ma no, me ne serve uno per Overwatch No, mi serve uno per ammazzarti Io voglio spaccartelo in testa Fino a che hai un trauma cerebrale Ti chiamato Amazon E hai fattelo cambiare, no? Che problemaccia Mi sento Amazon Scusate un po' se giocare a Overwatch Che ti prenderei a pugni, porco Dio Pazzito, ho da fare ora Ripeto No, cazzo Bello Poi ho preso Punto pure E Torbjord non ne abbiamo noi Main Torbjord Ubis Comunque non è che sono sempre tutti loggati E col fatto dei fusi orari, capito? Ah, cioè Magari Poi un po' c'è uno Poi un po' c'è un altro Poi uno va a dire Non ci vedo Non ci avevo pensato Cioè è per dire La russa ci stava da via prima Perché c'ha Eh, hai visto la terra non è piatta C'è Putin che Gli dà il coprifuoco poi Gli dà il coprifuoco No, ma io adesso non lo grupperei mai Inizierebbe a dirgli minchiata Tipo E il russa inizia a dire Putin E beh, minchiata Sta francese, porca madonna Vedi che è peggio di me Allora già sei simpatico In che Ci ha rotto il cazzo Ho capito Ma tutti gli steroidi Ci ha detto ieri A me piacciono, bro Sì, ma te dici Queste minchiata Tipo Non lo so Sei un testa di cazzo Esatto Ieri ha cominciato a insultarla Davanti alla faccia Sì, sì Infatti Ho detto Ma guarda Cioè praticamente Lo capivo Mezzo italiano Cioè lo capivo Praticamente l'italiano Quando si parla Ma lo capiva Vedi Certo che lo capivo E lì ha cominciato Lui cominciato a insultarla Davanti alla faccia E io ho detto Ma sei un handicappato Lo sai che le persone Sono tipo Di concognizione Di concognizione di atalantica Penso tanto Tipo Ieri Ieri poverino Ha anche scritto Scusatemi Cioè mi hanno iniziato a scriver Tipo Ora gli avrei detto Per tornare Ho detto No Forse è meglio di no Ho visto Capito ma Questo sei un coglione Cazzo posso farci Sei un cretino Ma è successo Ma è successo Marecchie volte Sta cosa Ma pure con italiane Che si girava verso di me E mi diceva Guarda sta troia Davanti a lei E' una cosa incredibile Cazzo di problemi Sì sì Io sì C'ho una lesione A me Mi ricordo che è successo E questa cosa è offesa E non si è più presentata A me ricordo che cazzo era Presentata dove scusa Sì questa Ma perché il tuo amico Mi ha invitato davanti Perché Scusa ma A chi ora A parte di scherzi Non me la ricordo Eh non mi ricordo Ma c'era una ragazza Ma si Ma sarà successo Yubes Non ti meravigliare Che è successo è sicuro Ma non mi ricordo Come si chiama Qualcuno che sinergizza con me Dice Yubes è la lava Sì Li pullo tra un poco Quindi Tieni lì Eh non me la posso tenere però Non entro qua No non l'ho usata Non l'ho usata Non l'ho usata Però sono morto Va bene Rappi si regruppa E si fa C'è sto cazzo di Di Anzo Che mi sta parlando Rappi Ci sei Yubes Ti sentito di te Aspetta Ah ci son Aspetta Eh Avanzo un po' Eh aspettate Vai Non ho preso solo uno Che sfiga Si è spostato lo strano Eh ci servirebbe il secondo tank Ecco vale il problema Perché non li reggo io adesso Vabbè 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 Sì Sì Vabbè Sì Ti fa sentire migliore Sì 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 Non c'entra proprio niente Sì ma infatti Non c'entra niente cosa detto Vai pushiamo Dove sono Oddio raga Sono morto Oh non l'ho vista Cioco di merda Perché c'è una cosa Ma poi c'è fatto Monta di livelli C'è 246 livelli Non lo so Forse Era il mio periodo triste Della vita L'ho sfogato così Sì Poi andiamo su Apex Visto che ti piace tanto Vabbè Altra cosa Vuoi farmi Oggi di maratona Giochi di merda Quel cazzo di rainbow Che è rotto totalmente Mi ha dato la pena Nonostante Non abbiamo fatto Praticamente Nulla Qualcosa hai fatto di sicuro Conoscendoti No no fidati Non l'ho fatto Veramente Sto scherzando Oh ma sta torretta Che si fa i giri Mi ha rotto i coglioni Se qualcuno prendesse Una zaria Sarebbe vinto Ma è tardi Non l'ho vinto Un po' un altro healer Mazzo di coglioni Mi sono rotto le palle Manca la torretta Ma poi la torretta lì Non è una lampata No Ma io ho best Che ci sono La torretta E' una linea attacca Cioè Eh sì Vabbè Ma che cazzo Vuoi prendere Basta che le palle E' una linea attacca Hai visto Di Maria No me ne sono sbattuto Di coglioni leggere Ma io non leggo mai i nomi O di qua Non me ne frega niente Legge Che cazzo Ti hanno preso Per il culo E' un case C'ho il game Bah Ma non devi fai Bah E' così Sì ma se quella era l'azione migliore Pensa voi quanto avete fatto schifo No Iub è semplice La mano E i soldi Ok